Stocco in bagher per l'attacco di Atala, tocca il muro e salva tutto Quarchioni, contraattacco affidato a Mason, pallonetto, si salva ancora una volta a Talmason e poi però free ball Soverato, repice, palla per Mason, difesa ancora della volley Talmason, palla dall'altra parte, ancora free ball di fatto per Soverato fast di Caneva, difesa ancora una volta dalla formazione ospite ma ancora free ball Soverato, repice, Bortoli, si va da Mason, tocca il muro e si chiude qui con il punto di Chiara Mason, 18-16 al Palascopa, 3-2 per il volley Soverato, al termine di una partita avvincente ed emozionante Una vittoria sofferta al termine di quasi due ore e mezza di gioco per il volley Soverato, 18-16 al tie break, coach Napolitano Una prova ancora una volta di carattere della sua squadra perché complice anche le difficoltà nel corso della gara è riuscita comunque a venirne a capo, rimontata di due set però ha giocato un tie break con grinta, tenacia, voglia, determinazione alla fine l'ha spuntata Guarda, devo dire bravi alle ragazze perché non era facile giocare la partita soprattutto laddove i due set iniziali non dico che ci avessero illuso perché sapevamo che Talmassone poteva giocare meglio però ci avevano fatto credere che insomma la partita potessimo portarla a casa un po' prima non era facile rimettersi con la testa secondo me, Talmassone non ha mollato un solo pallone e questo per noi è stato diciamo elemento di difficoltà anche perché avevamo un po' rotazioni obbligate Quarchioni era al rientro dopo un mese, ci usceva, sapevamo che non era al meglio perché sono due settimane che ha questo problemino al ginocchio ma doveva giocare per forza perché non c'era Quarchioni insomma devo dire che le ragazze sono state molto brave nelle difficoltà avremmo potuto secondo me evitare di dimetterci in alcune situazioni, questo sì però devo dire che di fronte avevamo una squadra che ha giocato fino all'ultima palla senza mollare mai sono secondo me due punti d'oro questi qua È possibile anche che inconsciamente la squadra sul 2-0 e l'uscita dal campo di Ceauceva sia stata un po' destabilizzata o condizionata da questa situazione perché abbiamo visto che poi ci ha messo un po' a ritrovare tra virgolette la quadra complice anche un Talmassone che è salito di livello nel terzo e nel quarto set ha giocato punto a punto rispetto ai primi due parziali quindi vi ha creato ulteriori difficoltà Ma secondo me è vero nella misura in cui Ceauceva stava giocando molto bene perché stava battendo bene, stava ricevendo bene, in attacco stava dando parecchi problemi quindi da questo punto di vista sì, da un punto di vista dell'economia della gara non credo perché comunque Quarchioni quando è entrata ha fatto molto bene è chiaro che le mancavano i minuti nelle gambe perché è un mese che non gioca e quindi a lungo andare un pochino ha sofferto, ha stretto i denti quindi non ci dimentichiamo comunque che terzo, quarto e quinto sono venuti 25-23 25-23, 18-16 quindi poi alla fine è un pallone che fa la differenza quindi bravo Talmassone, bravi noi che non abbiamo mollato anche in questa situazione difficile Coach Ettore Guidetti arriva a un punto importante qui a Soverato pesante anche per la classifica, un 3-2 sconfitta al photo finish però un bravo alle sue ragazze per la reazione soprattutto sotto 2-0 su un campo notoriamente ostico come il Palascopa di Soverato Grazie per i complimenti, devo dire che sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto le ragazze questa sera perché giocare in un campo caldo come questo non è mai semplice ci tengo sempre a precisare che per me caldo è una cosa e maleducato è un'altra io ho sempre avuto una stima enorme del pubblico di Soverato e continuo ad averla penso che sia il pubblico più caldo che c'è e contemporaneamente il più educato per cui hanno sostenuto la loro squadra dall'inizio alla fine sono state secondo me la marcia in più di quel palloncino decisivo che poi è caduto dalla nostra parte e non dalla loro analizzando sotto l'aspetto tecnico la partita possiamo dire che è stato un Talmasson dai due volti più sottotono nei primi due parziali terzo, quarto e quinto si è vista una squadra diversa ovviamente complice anche la prestazione del Soverato sia prima che dopo però ci è sembrata una squadra più determinata, più vogliosa, più reattiva negli ultimi tre parziali di gioco in corte parole credo che se noi che non siamo una squadra che ambisce a posizioni altissime lasciamo che il Soverato prenda lunghezze come le ha prese soprattutto nel primo set e poi anche nel secondo per noi diventa complesso giocare alla pari contro una squadra di questa carattura se invece rimaniamo attaccati punto a punto e magari prendiamo anche un piccolo vantaggio come è successo nel terzo e nel quarto set allora messa sotto il profilo emotivo ce la possiamo giocare quindi secondo me sono state brave, hanno stretto i denti veniamo da una sconfitta con Olbia che non ci è piaciuta anche se poi con i risultati di oggi bisogna anche prendere in considerazione il fatto che poi alla fine Olbia non è poi questa squadra materasso che pensavano tutti Infine praticamente ci ritroviamo alla fine del girone d'andata di questa regular season un giudizio complessivo alla luce anche di quello che ha potuto vedere dalle altre squadre su questo campionato e su cosa deve fare il volo ai Talmansons per raggiungere l'obiettivo della salvezza che sappiamo essere l'obiettivo dichiarato per una neopromossa che sta disputando questo primo campionato di A2 Il livello del campionato è assolutamente equilibrato nel senso che a parte San Giovanni Marignano vedo che qualche crepa sia formata anche in Pinerolo insomma ti lascia giocare qualcosina di più secondo me la terza forza del campionato in questo momento è soverato tutte le altre le vedo assolutamente più indietro quindi è un campionato con un equilibrio incredibile dove un punto può fare la differenza basta guardare la classifica di oggi noi siamo quartultimi con un punto saremo quinti